La cultura della subalternità che è stata propria del PD non servirà a risparmiare le nostre imprese dalla crisi. Il tessuto industriale del nostro paese va preservato ora, prima che si sfilacci definitivamente, perché poi tornare indietro diventa difficile. Sono queste le parole che l'onorevole Alberto Bagnai, eletto della Lega con l'Uni nominale alla Camera nel Collegio di Chieti, ha pronunciato parlando dell'impegno politico del prossimo governo durante la conferenza stampa che si è svolta a Chieti presso il Gran Caffè Vittoria su Corso Marrucino. Come immagina la composizione del nuovo governo a trazione Fratelli d'Italia? Sono interessato e sto studiando il tema della composizione del sottogoverno. È chiaro che i ministri hanno una importante funzione di indirizzo politico e nel mio settore quello dell'economia ha un'importante funzione di segnale ai mercati. Vogliamo correre l'errore in cui siamo in corsi nel 2018 di avere un forte consenso popolare ma una capacità relativamente scarsa di incidere nell'amministrazione della cosa pubblica. La Lega che ruolo avrà? La Lega ha il ruolo di una forza politica che ha il 16% del Parlamento e che è la seconda forza di maggioranza. Avrà il ruolo di una forza politica che può vantare un'esperienza di governo, fra l'altro anche acquistata a prezzo di una perdita di consenso e che si pone come punto ideale di mediazione fra le varie anime della maggioranza, esattamente come io qui sul territorio mi pongo come punto di mediazione essendo il candidato di coalizione e considerandomi tale fra le varie anime del centrodestra. L'impegno politico dell'onorevole Bagnai per la provincia di Chieti, che l'ha voluto in Parlamento accordandogli la preferenza del voto durante l'ultima tornata elettorale si traduce in una difesa del tessuto produttivo del territorio come quello della Val di Sangro in un contesto di crisi internazionale che mette a rischio le imprese. Andare in Europa alla spicciolata diventa improduttivo per tutti i paesi e dunque basta l'atteggiamento di servilismo nei confronti di Bruxelles, aggiunge l'onorevole. Soprattutto le forze che si richiamano all'europeismo dovrebbero fare un'operazione molto semplice che è guardare quello che sta succedendo in Europa. È notizia di due giorni fa che la Germania ha stanziato 200 miliardi di euro per alleviare il costo delle bollette per famiglie e imprese. È un intervento che la Germania ha fatto in autonomia senza concordarlo preventivamente. Dal nostro punto di vista potrebbe anche configurare una grave violazione delle norme sui aiuti di Stato. e al quale bisogna ovviamente rispondere perché altrimenti lasceremo che altri paesi, la prima potenza manifatturiera europea, si avvantaggi pesantemente sulla seconda che siamo noi e non dimentichiamo che in questa provincia noi abbiamo importanti eccellenze manifatturiere che vanno tutelate a partire dal distretto della Val di Sangro. Quindi la nostra ricetta è quella di intervenire il più rapidamente possibile. sapete che abbiamo proposto uno scostamento di bilancio, cioè sostanzialmente di finanziare a debito oggi un aiuto a famiglie e imprese per evitare di dover fare debito il triplo domani per pagare cassa integrazione o per compensare il mancato gettito delle imprese che dovessero fallire.